No, Giovanni, puoi mettere la mano in faccia, puoi mettere pure il colpo. Questo video che è diventato virale sui social mostra una cosa incredibile. Un bidello dell'Istituto Caravaggio di San Gennaro Vesuviano che misura la temperatura all'ingresso con la mano. Abbiamo provato ad avvicinare questo signore, che ci hanno detto essere il bidello scanner. Bidello della scuola, il cosiddetto bidello scanner. No, 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 non sono io. Vabbè, prima ho detto di sì. No! Alcune interviste che abbiamo preso sembra che l'iniziativa non fosse soltanto di questa scuola ma anche di altre e che la cosa andasse avanti da giorni. Oggi la scuola è chiusa perché all'interno di uno dei plessi dell'Istituto è stato trovato un caso di Covid e quindi per sicurezza la scuola è chiusa. La temperatura che veniva rilevata con la mano non vi ha lasciato un po' stupiti? Sì, ovvio. Sì, ci ha lasciato un pochino a bocca aperta sul serio. Questo è il video? Sì, questo è il video. Questo è il video che mi sono... Lì l'hanno fatto perché io l'ho visto e quello faceva così. Ma noi non ce la misurano così. A noi ce la misurano così. Però sapete che in altri istituti la prendono così con la mano? Sì, è pure qua. Grazie a tutti a scuola, ciao! Ciao!